Come vedete anche sfumando la canzone come i veri professionisti della radio Aspettate che adesso vi sistemo le fave Aspettate Oh, allora Mendoci qua Beh? Pronto? Ah, vedi, sono molto simpatici Era uno scherzo, ma era una storia E' un po' di più Il gatto nel sacco 11 mesi, quasi un anno Quasi un anno, il nonno Intanto apriamo Tricky Tower, ahimè E io devo offrire tutte le cose Ahimè C'è stato un bel video Ahimè Ma grazie a Giucuma Liga Bue Liga Bue come al solito Grazie mille Ciao Sara John Daniel Sarto per due mesi Uno qualunque Ah Ah, è bene Una scelta Una tardamente Io devo digerire però Seri ora, seri Dai, entra È tardissimo È un minuto troppo, dai Un minuto Molto bene Avete visto come ho sfumato la musica come un vero professionista? Come un vero professionista Come hai fatto, come hai fatto? Come hai fatto, come hai fatto? Bene, dal prossimo di Wind Per tagliarlo, dal prossimo di Wind Per questo duro Quindi come hai fatto, Marco? Mi dicevi? Abbassando leggermente, piano piano, gradualmente La barretta della situazione energetica Stavi quasi reffando, Marco? Hai visto? Proprio come Eminem, il ref god Ma Eminem mangia la pizza La vostra eminenza Non sta entrando, però Sta entrando Chi fa la partita? Chi dà le carte? Faccio io No, sarebbe meglio uno con la fibra Faccio io No, la stai facendo? No, fai fare a... Non so fare, non mi hai fatta Come devo fare? Adesso è partito Fatica? No, aspettate Lo vedete? Digmoon 29 Grazie Praticamente lo dovreste vedere, in realtà, voi Però non lo state vedendo Aspettate Facciamo così, guarda Tac 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 Adesso lo vedete Eeeeh Fatta Adesso lo vedete Bravo Adesso mi ha invitato Mi ha invitato? Mi avete invitato? Gatto, mi ha invitato? Io? Non so come si fa E non lo so E non è più via Ma non farla faramoro che lagga L'agga è tantissimo E guarda, devi fare la lagga E beh, domani Vi stavo dicendo, come si fa? E non l'ho mai fatto E fa il battaglio online E' online, penso, è difficile Faccio io se volete Trova, allora Com'è qua? Invita gli amici, dai Ci sono io Ci sono gli amici Cosa devo fare? Casuale? Casuale, torneo super, mega ultra Ciao, c'è Cristina C'è torneo super? C'è torneo super? C'è norma... Ah, speciale? No E che risponde? C'è torneo super, però c'è normale Facile, casuale, speciale Po' il casuale Devi fare Ok Tornelo super, c'è allora Vai Ti di ti di ti di Ok, aspetta Adai che io sto suonando i bonhi in un minuto Dovrei aver fatto no? Sì, è proprio un fattone gatto ciao Ramonza! ciao Ramonza! è tutto il peggio ma Ramonza? ma non siamo Gatto per la Ramonza vuole dire ooooooooh cos'era? saremo la prima cosa io Mark e la Roby anche se la Roby l'ha coperto oggi perchè è scema perchè sei un allora Gatto Liezar Moro Mark ti chiamo Ornitorico, brutto ignorante Gatto Liezar Moro Mark in ordine da sinistra bravo Mark, sei contana allora chi è che ha donato, scusami voi siete quelli con sette schermi allora hai vertigo, va bene allora se non avevi sette schermi non era vertigo mi dice tanti auguri di buon compleanno in anticipo a Desi Cacca Merletto che compie troppi anni domani e voglio portare a Desi che storia! che sballo auguri a Desi Cacca Merletto buon... guarda tante... buon 2016 li li ho fatti oggi, li ho fatti apposta ma... buon Halloween allora io era a Maleduca e me era... perchè... e che cacchio? eh scusa, non ho capito fatti i cazzi tuoi ma io mi sono ti salvato abbastanza egregiamente non è vero in realtà eh sennò... fatemelo credere per una volta Zappi sta dicendo troppe parolacce guarda che poi ci bannano i comodini devi recuperare... eh niente, guarda che cazzo mi sei combinato qua qua facciamo una bella base solida guarda che non è una gara eh eh lo so ma io che mica volevo gareggiare orca mignotta niente è successo un fattaccio once again grazie Aiden e allora? e allora mangiamo la merda dai e questo dove me lo infilo e guarda questo dove lo infilo io mortacci della sua madre orca mignotta ma si ma io non vedo più niente e non se vuoi gioca e allora stama scherzata ma fai cose e allora mortacci de pippo ho vinto io com'è possibile scusate e poi forse io lo stavo andando in lunghissimo ma come ho fatto? come ho fatto a vincere scusate vabbè adesso se vuoi ridarmi all'ordine Gatto, Liezar, Moro, Mark oh aspetta lo rischio oh che merda ho vinto non mi sento per niente partecipare ma è difficile questa cosa qua questo ci sta qui non ci sta mi sa e niente ho perso faccio lo stesso e vabbè guarda eh guarda qua si fa così vai ti provi una merda Marco, come al solito un testo di cazzo di provole guarda ci sta rapa come si gioca non è possibile 2, 3, 2, 1 però è l'unica soluzione vabbè guarda che Gratto ha vinto ma io non ho capito come si poteva fare in qualche modo quella cosa lì è che cazzo ci sta ci sta guarda lì come precaria la situazione tanto è già vinto Gatto è peggio adesso cade tutto quanto e rimane mezzo non fare lo zoso non fare lo zoso ma cosa ne sapete voi di Towers bravo deficiente guarda aveva vinto che merda aveva vinto aveva guardate che discorsi guardate ma io scusami ma come potevo intraprendere una strada decente con quella cosa lì guarda con la tua testa di cazzo non potevi di sicuro io ti scorreggio nella bocca allora l'unico modo mi dai l'unica soluzione è quella lì io non vedo l'ora che moro di questo non so cosa devo dire? non dipende se mi cade la torre se non lo dico infatti è il tormentone che più amo di questo TS da una settimana ho capito ma quando mi sento in difficoltà mi parte ma secondo me non solo in quel momento lì è per quello che lo apprezzo anche di più quando faccio all'amore dici si ma come non lo fa mai è terra da rose è terra da rose io non so giocare desi cuorlucchetto che da una ore 50 dice accidenti a te verti è il mio compleanno è domani ti auguro di fare la cacca liquida ma che schifo non la cacca liquida quella mi piace qua non riesco a giocare ah cos'è questa cosa qui? ma Marco sei già un coglione tu arcamarco e niente sono andato nel culo anche io sono andato in culo ma mangiatemi il sedere fate così con i vostri denti mi sgranocchiate le natiche e che cazzo vabbè ma che è stato a farmi perdere? stronti e io che devo fare scusa qui e nooo e nooo e dai e lì ci stava gatto eh dai zitto cazzo 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 mi regalo un cuore cazzo che idea di merda che culo e praticamente anche l'altro hai perso che culo e beh lì abbiamo guardato lì mannaggia che bello che vede 3-1 però mi ha scappato 3 e poi 0 ah questa è bella non lo dico sto giro non lo dico e niente e che dovrei come dovrei risolverla questa? come l'avete messo voi? ma mi fa schifo come l'avete messo voi ah vabbè dai guarda guarda come si fa io ci provo eh no moro allora ma questo oh per non saper né leggere né scrivere e vai a scuola mi spiace vai a scuola voi non avete visto che cosa abbiamo combinato ah e rà proprio così io proprio così io ah fantastico ma dai era bellino questo eh sono proprio un uomo fantastico io io devo bere però come faccio ad andare di là adesso non posso? ma la merda del cubo di merda ok ok guarda no moro nooo ma sta cambiando tutte le vocali apposta secondo me stasera e niente questo qui me lo infilo nel culo perchè non ci sta che sfiga dai era vinta io volevo sapere dalla chat voi quando fate sesso qual è il vostro verso predominante e che cazzo ma com'è possibile? quel gatto ma per quanto vale c'è cazzo cazzo senti è lì è presente ogni volta che fa sesso cazzo cazzo c'è nientar che è in tristanza e dici che palle E tu che palle! E che palle le sue? E che errore dai! Subito così! E' diventato Mark! Cos'è che sono diventato l'uomo da prendere? E' diventato un coglione Mark! Per risolverlo peggiorato eh niente! Che merda! Cazzo! Giurlare sono! Ehi! Per logica! Niente! Di un porco! Guarda! Di un porco! Puff! A sec! ZIC! No! Cosa succede? E niente! Sono di una merda io! Ma cazzo! Ma dai! Ma dai! Mai! E questa è la stessa! Qui cade tutto! Hai mai ricato lo scrotto di tuo cugino? E' perchè Marco ha detto hai mai e allora mi è venuta in mente una domanda interessante da farvi! Di tutto! Che merda! Che merda! Va bene! Va bene! Deve buttarsi! Ha tirato una zip! Ha tirato una zip! Velocissimo! Ma dai! Stronzi! Ma dai! Ero levato da zero! Bastardo! Eee! Le pare state building! Bravo! Hai visto che bravo che sono? Io sempre secondo qui! Ne parte una volta! Vedi c'è... Che dice... Che dicevolo di solito urlo foco in buche! Vabbè! Banale! Eeeh! Banane! Ah no che bravo Marco! Pijama! Eccolo le di caos! Grazie le di caos! Ciao le di caos! Sei mille! Ho sbagliato! Eh! Per forza è scemo! Ah no! Io ho sbagliato! Che errore! Dica! E niente! Ma che idiota! Aspetta! Ma non è che ho sbagliato perché sono arrivato tardi! È che per fare il freddo ho preso il pompelmo! Non l'acqua! Adesso me lo devo bere però! Ma che cazzo è successo! Aspetta! Guarda che forse batto moro arrivando in ritardo! Incredibile! Vaffanculo imbecino! Ehi zitto! Pagliaccio! Eps! Ehi zitto! Adesso! Adesso! Ehi! Adesso! E io sono in piedi bro! Che scomodità! Adesso in piedi? Non ho capito! No! Eh no! Non so! A destra Marco! Ma te sei un coglione! Sei zitto! Scemo! Ma che scemo che sei! Perché non mi avvisi! Che cazzo fai brutto imbecille! E cosa ha cambiato? Non lo so cosa ha cambiato! E sei un coglione! E sei un coglione! Guarda! Io sono mastodontico! Io ho preso il pompelmo! Adesso me lo devo bere però! Scusami! Ma è buono il pompelmo! Che cazzo fai? Elimila! Bravo! Hai visto? Era tutto solidificato! Però non so più dove cazzo mettermi con questo! Adesso casca! Ehi puro! A destra! A destra dove? Infilalo! Infilzalo sotto! Ma a te sei pazzo! Fallo! Fallo! Criticare! È coglione! Criticare! No! Bastardo! Non mi ero dimenticato che te lo cancellava! Ma? Che devo cancellava! Ma? Sì ma io avevo sete! Il pompelmo non mi si di seta! Palleggi! 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 Scusi Marco sei una merda di uomo! Ah ma qui li posso far cascare! Che cazzo! Guarda che schifo che fai! Altro che! Tu sei una diarrea umana Marco! Guarda che mi insulta sempre! Ci sarà un bel motivo! Guarda lui ti vuoi insultare! Se ti ricordi una robina! Ma perché a te ti voglio bene! A lui no! Ad abbatto! Si! Ad abbatto! Tanto tanto! Non è che dici tu se mi distrago perdo! Poi sei già l'ultimo! Il singhiosso rotto dal pompelmo! Il... Il... Ma che stai dicendo? È ritardato! Allora mongoloide! E beh! Sono d'accordo! Sono d'accordo! E che cosa ci fai d'accordo? Ma sei sei! Sei sei sei! Oh! Ma l'avevo appena messo! E che gro... E che successe qua? C'è... Ma che l'avete tagliato? Non riesco a spostare quello li! Ma allora! Ma guardate! Ma che cazzo! E' sul terzo di nuovo! Allora! Allora! Le vuolong! Ma che cazzo i nudi guardi! Che merda di quiglia! Merda di quidditch! E allora sei scaduto! Allora vaffanculo! Allora sei scaduto! Tutti c'han la mamma puttana qui! Oh! Tutti! 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 Ma si! Ma che cazzo ho fatto! E non recupero più! Perché io c'ho una base che è una merda! No! No! E' schifo! Guarda! Mi è caduto tutto sul poto trarchio! No! Perché? Coglione! Perché è storto tutto qua! Eh! Vedi! Io non posso migliorare! Perché qui non si toglie più quell'affare! E' una più storto! Mangio uno scrotto! Guarda! E' sponso! Che vuoi fare? Non so come possa risolvere questo! Parca la merda! Eeeh! Così nooo! E' scemo! Eh! Guarda cosa era successo! E' crollato tutto sotto però! Adesso ce lo snella! Spattati! Spattata! Spattata! Ma che cazzo! Perché ce l'ho tutto storto! Io non posso inzicca! Eh! Vaffanculo! Eh! Vaffanculo! Eh! Vaffanculo! Ti ricordi Aldo? Eh! Sì! Eh! Eh! Vaffanculo! Eh! Cazzo! 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 E' stato pieno! Massimo! E' l'orando va a fanno tutto! 2! E' uno! E' si va a merda! E' si va a merda! Non ho mai visto una vittoria così brutta! Guarda sto storto di merda di cosa ero sentito! Cosa è successo? Scusa! Perché si hanno diventato una cassa! Vedete ho perso! E' questo il mio campo! Non posso perdere! Ce la farò! Ce la farò! Ce la farò! Io devo ruttare ragazzi! Cazzo se ce la faccio! No! Hai ruttato lo stesso! E' regurgitato dal verso! Ah! Che paura! Stavo per fare troppo rapido! Troppo ragno! L'uomo rapido! Ma questa è una merda! Spider fast! Spider fast! E' zipiribi piribi! Titiriz! Titiriz! Io sto facendo delle idee! Ho avuto un'idea del cazzo! Ah no! Non nulla era cretino! Che mi clippi tutto! Ma mi è caduto! Il cazzo... Cazzo l'oro! Ma! Tratto prima che te lo dicesse io lo facevi sempre senza vederti le conti! Aaaaaaah! Dai! Ma mica di tutto! Cosa c'ho oggi? Il dito rotto! Eeeh! Che bestia che sonno! Che tenga? Ah! Arca puttana! Com'è successo lì? Ma no è vero! Ma niente! Allora sono uno stronzo di merda! Cosa stai facendo? Doppio! Niente! Ma senti che non era possibile! Ahahahah! Eh bebe! Eh bebe! Come ci ho tentato duro! Era impossibile! No! Marco! Eh che paura! Siamo mati! No! E' una donazione dolorosa! Sì! Dono questa una volta per tutte perché seguo le vostre live solo su YouTube e mi sembra sempre di guardare ha di tutto! Non c'è niente però! Grazie alle Asis! Grazie alle Asis! Ti hai fatto caccare sotto! Io ho fatta le mutande eh! Io ho fatta le mutande eh! Non me l'ho fatta la dolce! Non ho capito perché non ho sentito la parola scrocca! Come sono arrivato a decimo? Perché c'è... Non c'è niente su scrocca! Però grazie mille alle Asis! Grazie mille! Che porca vacca! Che dolore! Gli ho donato mille euro! 44! 44! Che devi dire! 44 gatti in fila per sé con questi due! Si unirono compatita! Bravo! Devo ruttare veramente forte! Non lo faccio per rispetto però! Ma è stupido! Che cosa fai? Perché perché? Come il santone dello svapo! Maleducato! Ma quello era il santone dello svapo! Non Valeria Marini! Eh no! Il santone dello svapo! Il santone dello svapo! Sto facendo i ruttini quelli... Le loffe dalla bocca praticamente! Le loffe dalla bocca eh! Eh che c'hai gatto! Si chiamano così! Si chiamano! Sto scorrendo si fa! Si chiamano così gatto! Mi si è spento il pad! Eh Esprit è diventato! Sì veramente oh! Cazzo c'avete oggi che mi si spegne il pad? A me si spegne sempre il pad! Non dovete rompermi le barri! Eh fate cagare! Ho comprato i pad della sottomarca Lidl! Ho comprato anche la batteria nuova! Vabbè! No cazzo oggi è il treno! Ma io uso tutto con il filo proprio per questo motivo! Mi fa schifo! Non da 92 euro! Mi doveva arrivare mica arrivate! Io voglio sempre le robe con il filo per questo motivo! Fate di finire il culo le robe col filo! Perché lì il filo ti infilo! E dove lo infilo? Nel filo! Nel filo! No no! No no! Non c'è successo lì! Ma scusate! Ho perso! Ho perso una parte importantissima della mia torre! Non so come! Perché! Eh niente mi intoglienza! Che schifo! Che dai dai! No che culo boro! Cazzo! Cazzo! Creatore di Tricky Tower! No con il creatore di Tricky Tower siamo partiti! Trappa! Si! Io non posso zettare qua! Io non posso zettare qua! Io non credo di aver fatto un errore! Io ho sbagliato quello! Porca! Ho sbagliato meglio tutto nella mia vita io secondo me! Adesso posso... No! Eh no! Eh niente ho perso! E' culata! E' cascato tutto lì ma non volevo! Mamma che paura! E' niente! Che merda! Proprio ultimo dopo Mark! Ma che è? Proprio il peggio... Il peggio della merda! Eh guarda! Ma senti sti scemi! E questo me lo metto nel culo! Che ci devo fare? Comunque prima sono arrivato terzo eh! No! Come no! Ah si! Come dice le cazzate! E sentilo che coglione! E' ultimissimo! Guarda! Che faccio un cappotto sto giro! Ma fai quello che ti pare! Guarda! Basta che arriviamo alle 20! No! 1! Che è! Oh no! Cazzo cosa fai stasera in live observer? Si! Così me lo guardi! Esatto! Ma è Absolver! Solo quello ti guardo! Ma che cazzo è Absolver! Cazzo! Absolver non credo! C'è un gioco sulla chiesa! E' quello che ci si mena! Ma è Absolver! Ma è appunto! E' Absolver! Ma no! Ti dico che non faccio quello! Ah! Non fai quello! Non mi segui mai! Ma chi ti segui? Mi fai caccavo! Ma che fastidio! Sai che siete come delle sege comunque! Tu sarai una sega! Io me le faccio al massimo! Ma che fai! Orca vacca! Che inculata! E' tutto! Mi è caduto! In due secondi! Mi è caduto tutto! Tutto mi è caduto! Tutto! Alla prese! Tutto mi è caduto! Grazie! Grazie mille! E' fiorentino comunque al massimo! E' vero! Non so i dialetti oggi! E' che cazzo! Marco! Ma fai schifo tu! E mi parli a me! Ma che affanculo Marco! Guarda che schifezza che stai combinando! Mangiami il culo! Che nozzozzo sei tu! Guarda qui! Aaaaaaah! Te l'ha detto gatto! Comunque l'ho sentito io! E' un fiorentino! E' allora! Grazie Pippo! E' Pippo come il pallo immagino! Dimmi fallo! Non come finito! Sucate! Guarda come la metto su quella più bassa che è più bellina lì! Guarda! Questa qua! Questa qua! Aspetta! Preciso! Eeeh! Che fatica la vita! Eeeh! Guarda lì che situazioni! Ma io che devo dirvi! Cosa devo dirvi io! Non ho le dita! Non ho le dita! Cosa devo dirvi! Io non ce le ho! Mark! Impara giocare! E stai zitto! Tu che hai fatto delle robe che ho vomitato da più punti! Non guardare me! Fai cagare! E allora! Adesso lo fico dentro! Giusto giusto! Lo stavo facendo gatto! Bisogna che è rimasto incastrato! Ma io voglio fare Batman! Questo lo posso incastrare! Dadaan dan dan danrdan! Dadoan Dan Dan Tan! Dadaan Dan Dan! Quello lì! Guarda io cosa faccio! Ve la metto in culo a tutti! Chingo! Ma che dolore! Io non riesco a fare questa cosa qui! Come係 possibile! Ok, c'è leydera! Yes! C'è leydera! zedera non sai giocare! Mamma mia! Campione! Campione! del pioni però che sfiga ho avuto un po' di sfiga ciao broscia come stai? ciao broscia casca perché ho sfiga che sfiga e dai che palle che palle bravissimo perché il culo ci sono andato primo? così? facendo schifo? senti come parla lui parla poi arriva ultimo stai zitto brutto idiota cosa vuoi? non tu lui no lui mi ha detto che arriva ultimo no morelli sto dicendo non sono arrivato ultimo ma quello di fianco a me eh sono ultimo ma chi se ne frega hai fatto meno di me meno di me hai fatto si 66 ma chi ce li ha ho iniziato il verde brutto coglione ma perché io inizio col bevete quello anche io ho iniziato il verde ci figurati se no mi danno il verde a me questi malati figurati se no mi danno il verde ah ma perché i colori sono sempre fissi? beh i pezzi che dici che tutti i verdi in realtà ma questo per quello ma perché io ho scelto la stupida eh io c'ho quella di che cazzata gatto che vinculata merda allora parlavi di me che di gatto è quale la merda? no io dicevo di me beccatevi questo ma non starvi beh va bene sono una maestra allora sono una maestra allora che ciccione che cazzi di udi guarda che c'ho quella che cazzo è la mia lo metto qui dai adesso mi tira giù tutto guarda è niente devo farle quelli ma dai sono veramente il figlio della disgrazia voi non avete idea di che cazzo non parlare così della tua mamma Marco guarda quanto è gommosa come faccio a mettere il pezzo guarda io guarda io ma basta a dondolare come metto i pezzi questo è un po' una pop come faccio dai adesso ditemi cosa avrei dovuto fare vedi che faceva ti tin ti tin ti tin e allora ciula me lo dai eh sì che te lo ciula ah che cazzata di merda che ho fatto no come che cazzata che sono fatto ma io non tu ah scusami ho capito che cazzata gatto se vuoi ti regali regoli così si giochi un po' mi dico ah eh moro sei nella mierda che ho finito io che ci vuoi fare basta io mi tamburello la panta che cazzata di merda che merda rompi capo facile è facile facile il cazzo eh niente partiamo già con io sono in difficoltà allora prima cosa da fare è tappare i buchi quindi gatto diavare le ghiac anale come sempre anale eh sì ha capito sto giocando sento anale mi prude il sedere mi prude il sedere culetto E ho fatto Guarda faccio così Perché? Che inculata, che inculata grossa Ma aveva toccato Porca di una comignotta Complimenti moro Eh complimenti moro Sono il campione dell'anno E allora Ho visto adesso in live Ma non ridere bastardo Cosa testicoli Ligato, che tanto sei nella merda Cosa testicoli ligati Eh basta Eh che chezzo Ma come ti metto scusa il primo là sotto Che ne hai fatti bucchi Che cazzata che cazzo là sotto Ma tu Anche io Marco Ho fatto una cazzata grossissima Marco non ne ha neanche ragione Ma il terzo posto Ma che terzo posto Sono due pari punti Che pare il 20 euro A me sto gioco fa cagare Comunque io ve lo dico Ma fa cagare perché c'è delle cazzate Erika io che cacchio ci devo fare Oh Fai nervosire perché c'è delle porcate Guarda che hai fatto col buco del culo Dico io cos'hai fatto col buco del culo Se non la smetti Il tuo culo Panale Non ha riso quell'altro Mi spettava una grassa risata Il sedere Che non hai detto ano E quindi E no Era troppo scontato il sedere È per quello che fa ridere Penso a sudare Anale Che cazzo dici Imbecille Ma allora qui c'è qualcuno di infame Che pare che mi tocca tirare E allora basta E allora in su Sto cazzo Questi palloni Ma Ma Cos'è ma Guarda che versi erano E cadi Per favore guarda Per favore guarda E cadi E cadi per favore Non è possi Oh 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 Era una citazione a morgola lì quasi Era quasi cheat Oh Oh Guarda come Così dentro cazzo Niente Ma io E che cazzo Ah me l'ha sistemato Va bene Non ci parla No 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 E allora sì Piusciamoci un po' che vicenda Non mi toccare Non mi toccare Non mi toccare Non mi toccare Ne sto sbagliando tutti Dai che pare che La ridolina Quella di quando sei nervoso Che vuoi uccidere una persona La merdolina La merdolina Che esce dall'anale Ridolina E che p***a No Sta cadendo Meta torre Adesso vincola Orca Divisorio Cosa? Maledetto lui Effettivamente Che succede? È diventato un mulino no no credo marco abbia detto no ma è un boschetto adesso nella mia mamma mia regalo casuale a voi e niente io ricomincio da zero ciao e basta l'avevo appena messo scusatemi io sto costruendo una bara e vince posta che inculata che gioco del cazzo che gioco di merda guarda che ho donato guarda non è vero scusami grazie ora di 98 che dice ho recuperato tutto pathfinder su youtube mi piace molto il personaggio di moro quando ricomincia quando ricomincerete guardate queste 24 monete d'oro grazie il distacco la parla giusto bastardo ma che bella gioja o gioja il 286 un abbraccio e un bacino a tutti minore gioja però ogni tanto è che tu non puoi quindi non ho capito cos'è che non può fare è limonarci perché no io la limono io la elimono io ho detto limono però se capisci sempre male sei un povero ritardato ma io ho capito bene e il limono non so come c'è neanche sbagliando di proposito l'ha detto lui tutti che confermano in chat la limonarci la vedo positiva che inculata grossa te lo dico a sara e le dico oh ma sara la limona con me è schifo di situazione no come si fa senti che il drive ha detto no la situazione mi chiami un po marco e daccia mi stai zitto che sto giocando ti sto distrattendo apposta cosi di corriere questo qui sembra proprio quelli che bisogna intrattenere in live e poi senti il dito che devo giocare veramente troppo scusa guardato io ti rompo il culo adesso me lo merito però sai cosa non mi merito l'ultimo posto il backstab e invece vincito ma cosa vuol dire che cade è buono perchè l'hai messo a destra scusa ma che cazzo vuoi e io infatti cosa voglio che non ce la faccia nooo che culo che culo passalo li che non tocca ciao giorgia ho già la zanna sto giro e certo come pareggio e certo che pareggio buca marco ma gli è già allenato al tu uno ma scusa sta diventando scemo dirglielo la monza tiragli due sberle sull'orecchio amorelli perchè capisci sempre male ha detto anche con lei ah e va bene qualcuno lì lo fa apposta è evoluto poi non ti spiego perchè che imbarazzo è normale allora questa volta però vinco che cazzo c'è quello verde non so dove metterlo vaffanculo allora io sono in imbarazzo duro ma qui non abbiamo le vite ma allora vaffanculo ma scusa ma che chiaro ma farla bene è disgraziato vaffanculo moro merda e questo dove lo mette non c'è uno marco però ti sento un po nervoso adesso ti calmi io ti ruso addosso che perchè che pene aspetta ve lo regalo io diverso adesso sto ragionando ho beccatovi il boschetto che è un della mia fantasia tiri tiri ma la zanna è da gardaland ma che cazzo a quest'ora vai a casa cheeeesbo hai capito ma è tardi ma non guardare la live piuttosto divertiti quello magari si diverte di più o guardare la nostra live tu che cazzo ne sai che tristezza vuol dire che è ancora più felice questo posto non comparo le vostre live a gardaland ma troie ma mi serviva quello lì io sono sul pianoforte ma andate affanculo peccatevi questo zutti ma io che c'entravo scusami no di ghiaccio oooh io li ho piazzati tutti eh frega niente del ghiaccio la vinco la vinco guarda guarda con la precarietà nel nome ehi ehi che cacchio succede bastardi senza la gloria no 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 guarda 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 che cacchio e non si può e non siamo da zero dai sarebbe bello cadersi al vostro e la fine è vostra e allora andate a mangiare la merda dai e io vado a mangiare la merda guarda lì basta basta faccio così basta ho rotto le balle ho rotto le balle oh vedi che bello questo tanto si vince facendo così te lo dico io no 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 e mangia culo che si fidati che prima o poi mi va di culo e vedi no 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 io sento quello di gatto che dice ah tu ah tu scusami ma che cazzo succede lì bastardo e drizzati come il peso lo sapevo che lo dicevi perché sei proprio un deficiente e guardalo guardalo che arriva secondo ma che buco di culo ma mi fa schifo fare le live come vabbè perchè hai visto la mano il distacco è incredibile ma che ne so che sto a fare non mi fate domande io non lo so sto mangiando le nuove più gusto che sono troppo buone non devi fare pubblicità alle cose che non ci pagano corvo non lo sai scusa però sono buone svegli fico di reddita se non devo perdonare quando c'è il risolgo devo perdonare quando c'è i soldi è l'altro tanto non c'è l'unico le porca troia film di merda però le usi porca troia ho detto allora questa è vinta momo momo mamma mia allora che pensi in me oh streghetta che pensi in me? ma il tempo è ora hai ragioncina questa ma che schifo ehi dimmi guarda che è grazie grazie barbatreccia grazie la maglietta viola è la più schifo hai ragione che palle sti cubi qua non servono niente ah che inculata dura oh flanders marco se puoi intrattenere però non è che marco non tu marco marcos intratieni intratieni poi non parla neanche mai ma non so che dire io e allora racconta una barba te lo dico io anale guarda per quello che sto vedendo in game marco cosa puoi fare è chiedere scusa nooo che twistone è successo ma dai 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 ma io che devo fare ragazzi che devo fare uno si impegna uno si impegna non è il gioco fatti miei per me è questo per i fatti miei per i fatti miei devo fare altre cose io devo fare la ballerina devo fare all'amore devo fare all'amore devo fare la ballerina posso fare no la ballerina perchè è più di classe la ballerina donna i ballerini maschi sono tutti bravi i ballerini maschi non mi piace che inculata del cazzo ho preso grazie oroti grazie scusa io voglio vedere le ballerine donne perchè dovete ma c'entra ma sono più belle da vedere scusa le ballerini maschi ma ok ma una preferenza tua non puoi dire che sono più sensuali delle ma chi ha detto che sensuali non ha detto nessuno la parola scusa me ho detto che sono più belle ma perchè mi piacciono di più a me no ma avevi detto un'altra parola cosa non vi hai detto l'avevi detto forse più eleganti ho detto boh ma non mi ricordo stavo parlando a caso comunque non mi ricordo eh parla a caso questo qui lancia il senso può che si chiude la bocca quindi che ci perde la sangoga la problematica questa è una giocata vincente wow noo che spagno e vaffancio bicchieri d'arancia instagram la salute di cristallo cosa? mmm tanto mi sono arrivati i biglietti per andare a Salerno eeeh eeeh che cazzo vuol dire questa cosa uomini scarsa eeeh chi è? dai Mark dito che lo fai apposta e la tua è tutta scena per le visual esatto e sai che visual è godute proprio è tutto un piano però un altro secondo sono talmente merda che pensano che non ce la farai gatto mai Mike petizione speciale proprio per quelli come me guarda Faffina ma tu non eri arrivata 40 minuti fa era riendata era ghindata guarda che bravo gatto cazzo gatto è bravissimo guardalo guardalo è bravissimo gatto è fenomenale è fenomenale ecco quello lì eh non lo lecchi? bravo guarda come ha stabilizzato il tutto cazzo che figata mi scorre i giovani ho sentito un peto io scossa va bene va beneee scossa ah eh ma eh 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 complimenti alla nazionale italiana femminilander 18 di pallavolo che ha vinto per la seconda volta consecutiva il campionato del mondo lo stavo per dire io lo stavo per dire io brutti deficienti ma perchè brutti brutti coglioni bastardi oh mi casca addosso questo pazzo stava andando bene invece poi ma guarda che inculato io adesso come vaffanculo la merda proprio la merda o? no ce l'avevo il vento veramente già ma anche viaee grazie halfbloodnerd grazie mille grazie mille grazie mille eh mi si è spento il peto eh niente scusa che inventa quello lì ma come si esiste tanto sto vincendo quindi anche le scuse che mi invento sto vincendo guarda io come sto vincendo no mi gira il cubo aspetta aspetta guarda qua che tricazzo eh no non si è attaccato tricazzo nel senso 1 composto da più cazzi e niente eh va bene eh va bene mi piscio in bocca è finita però quello lì che si era fatto a caso è rimasto vedi quanti siamo ricominciamo no posso chiamare di buttare giù quelli di mano wow Marco sei fortissimo grazie considerando che io sono ultimo io sono il miglior in queste cose essere ultimo stiamo finendo sto livello è infinito eh maledetto vento che ci spinge e che cazzo come spinge tuo marito bravo bravo è inculata va bene cioè no no ma dai ma che cosa pensavi era tutto una merda ma si ero arrivato mancavano quattro dita da lo dico io dove ero arrivato ancora più grossi da lo dico io dove ero le quattro dita ma guarda che lavoro guarda che lavoro però non mi gracchiare eh ma dai no non ci credo dai dai no no è uno scherzo avevo poggiato il pedo fuori che avevo detto vabbè ha vinto lui il soffermato anch'io avevo poggiato il pedo basta eh basta un po' secondissimo secondissimo guarda che vergognosa quel faccenda lì te apro la finestra sette volte sette volte sette volte ma ho sentito una mucca da io ehm? ho sentito una mucca da io una mucca da io una mucca ho spazzo ma quanto spazzo c'è lì in mezzo però eh sì ci costruiamo un ponte allo stretto aspetta che io devo aprire i baiocchi però come faccio? non ce la faccio amici guarda qui che genialità cazzo se sono bravissimo amici io non so cosa è successo bene così bene così oh oh ma che succede? no che partita è questa qui? vabbè quindi marco sei diventato bravo? no guarda io tu non hai idea di cosa è successo eh non ti posso guardare perché c'è un attimo di defiance bussa non bussa chi sarà mai chi sarà mai oh che che bussano io non so bisognerebbe andare a vedere crack grazie mille rack mamma mia ma io non lo so che ti è successo mi eh non lo so è stata una magia quella lì è successo una magia quella e niente no no è stato un errore grave no ma è Jake Streets Simulator grazie a Jake Streets buonasera terra sicuramente posso dirmi da placa è giusto guarda qui che perfezione del cacchio grazie mille a tutti quanti quelli che stanno supportando girare voglio il premio nobile qui guarda come salgo adesso tatatatatatatatatatatatata astemio da birra siamo a 5 forza mar sei tutti vai vai a me io sono contento perché fa schifo la birra tu sei un uomo del cazzo, come si vuoi fare ti rendi conto che siamo solo due bevitori qui? no anche notte no qui sono solo due in questo momento si io ho bevuto un attimo qua non è vero solo la bottiglia d'acqua è sempre qui d'acqua, d'acqua l'acqua è per gli uomini moro chi sarà mai? andiamo a vedere me e me stesso marco che uomo pallico che sono e questo è quello che dice marco va bene è vero e dice ma dai facciamola un sinonimo italiano di defalience e deliquio accento sulla prima i ah, deliquio no ragazzi voglio andare a letto con chi? come con chi? con varie mani ed eventuali che mi insegnano a giocare ah come l'ho sistemato a culo completamente spende un po' e me lo infilo nel culo questo oh e mi metto che famia questa succatemelo e mi cazzo eeeh ma che succede? ma che succede? oh mi torna su? mi torna su amici ma state guardando? ma guarda a me ma mi torna su ti torna su perché non puoi buttarlo giù quello lì lo devi posizionare e ma mica deve essere da solo e no ti cade perché non sei buona posizionare o perché sei una sega marco tu fai schifo morelli ma poi chi è sto ubriacone che dice è un ubriaco chiaramente e devo starnutire tra l'altro eccomi nooo chi è egli ezzaro ma a me stava accadendo non li stavo scartando eh no ti stava accadendo perché devi posizionarlo bene con il ghiaccio bravissimo cazzo che torre che ho fatto attenzione caputo no pareggio oh madonna mi è caduto il ped ma l'ho preso al volo io te lo ne ho preso quel ped però sì io faccio le rank di tricky tower perché la facendo i fatti miei ho fatto uno sbaglio io e niente benvenuti sul piatto che sei un coglione tu e che cazzo vedo praticamente tutto vabbè sono a posto e che cazzo ma non li potevo mettere ancora lì non mi veniva quello lungo guarda cioè guarda io come son messo e niente ho finito così no ricade grazie Joe in realtà non cadeva però no stava un po' perché no ti provo eh ma tanto no ah ma peggio di così ma guarda che mi sono andato male viva le zebre adesso non sono andato male ma Roberto Calvos ma non sei andato abbastanza bene vecchio ma il secondo per me è una vittorissima proprio comunque ultimo però ma adesso adesso mi rifaccio adesso mi rifaccio eh no dai però eh no perché Mark così ma perché non ce la faccio a metterli ma che cazzo vuol dire non ce la faccio a metterli eh ma devi parlare Mark era il secondo pezzo lo vedi ci sono anche le guide il gioco più facile del mondo ok io non so giocarci ragazzi guarda vabbè adesso è veramente essere stronti lo è andiamo su Rainbow Six eh no fai cagare anche lì ti gira di merda non è vero che faccio a cagare lì cosa vuol dire faccio a cagare lì non è vero che faccio a cagare lì questa perla sette otto ti ringrazio ti ringrazio ti ringrazio ti ringrazio ti ringrazio ti ringrazio ok era bello era era Ziggy che bello vedere la chat come prende un secondo posto allora dai mangiamo la merda tu cate il cao eh no quello sotto sempre eh eh guarda lì che preciso è vero abbi era quello era cazzo guardavate alla tv scusa eh Ziggy era c'era Ziggy con Roberta Lanfranchi e Lni Dig ma è che si scrive? ah merda me lo ricordo Ziggy era di nosaurone col panciotto palle eh beh che cazzo vorrei fare io qua scusa eh poi c'è un sacco di Ziggy c'è il streaming scrivono era la canzone di uno dei Siggy ma era anche quello però eh ve lo assicuro Marco io ti credo tu mi stai andando addosso che mi credi? cosa hai detto? tu mi stai andando addosso perché mi hai detto questa cosa? perché sei sempre dalla parte di Morelli stasera che mi insulta ma che cazzo è successo? no a parte che non è assolutamente vero comodo una volta che mi hai difeso stasera gatto ma non ho detto niente appunto o mertoso o mertoso o mertoso lo dice qualcun altro è simpatico cazzo ma tu è riso cuglioni cazzo sorriso anale questo è il vischio questo è il vischio no è vero vedi che sono un grande vi ho reacceso la memoria da piccoli io non ho capito che cazzo fa dopo l'ho twitto Ziggy grazie mille era viola e azzurro tipo ah ho capito che figa la tipa è uno dei commenti ma perché? un lato di cazzo era praticamente facevano questa punta c'era anche Alessandro Catellan nella puntata Catellan? Catellan 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 parlate voi mongoloidi parlate voi scusa Catellan uè Catellan Morul però se cortesemente perdi che cazzo vuoi oh c'era anche lui e c'era questo diosauro col panciotto che faceva il simpaticone e faceva gli esperimenti anche faccia gli esperimenti tipo io mi ricordo avevo imparato facciamo vedere il video se tu metti un nastro sul palloncino lo buchi non si buca non scoppia e io non lo sapevo da piccolino era magia per me la patata che si accendeva faceva accendere ho trovato questo Ziggi e credo di averlo visto non era con Eva Enger però non era con Eva Enger ma che Eva Enger ah ma era viola gigante era Ellen E c'era stata Roberta Lanfranchi e poi hanno cambiato ma Eva Enger ma Eva Enger è paperissima con l'accento ha fatto anche quello non ha fatto Ziggi Eva Enger ed è incredibile che abbia fatto di tutto perché è una pornoattrice però va bene esatto ha fatto di tutto in tutti i sensi veramente di tutto tutta roba per bambini proprio a 360 gradi e i bambini quando scoprono il loro corpo tra l'altro io mi ricordo in paperissima e Eva Enger si metteva tipo faceva tutta anche la pecoa cioè io mi ricordo non era volto cosa ha detto eh sì e io mi ricordo era col perizoma cioè una trasmissione per bambini in perizoma tutta piegata non si fa eh ma per ma che programmi hai visto ma ti giuro in paperissima era sempre nuda col perizoma che si piegava faceva cose per l'odio piegava il perizoma ma ti giuro non me la ricordo questo è un modo di tempo guarda che non si piegava lei sappia sperla ciao ragazzuoli buona serata a tutti anche a gatto dai perché non mi aiuti vedi poi la gente ti odia ma che cosa vuoi da me ma guarda che non ne sto azzeccando uno che sia uno però appunto non mi aiuti sto tenendo un po' verso molo io me lo ricordo ben il culo di Eva Enger mi ricorderò il culo di Eva Enger era esso un po' perissima mi hai fatto sempre ridere perchè era tipo Anger ma che tuttana ma lui era tipo Anger chi? ma io era tipo Anger quindi ridevi? bambino speciale eh si scusate era piegata e ci vedeva e imperizzò quale altra spiegazione potevo fare ma perché inzante si scandalizzano inzante si scandalizzano si scandalizzano era così io sto descrivendo quello che vedo era anche scrivono come la gatta nera al mercante in fiera è vero era un programma per famiglie no non è vero era vestitissima però era scollata davanti no no si no è un gioco così no è che era in pelle era tutta artillata più grande entrava solo per portare la carta e basta e non sapeva l'italiano no ma stava sdraiata poi davanti a Pino Insegno non stava in un'altra stanza era no dopo che ho aprato la carta a me io mi ricordo che gli stava sdraiata lì sul tavolone no gli stava era su un divanetto era non capisco quante versioni no l'altra stanza se l'ha inventata a moro era a casa sua era esatto cosa farò se la faccio guardavo il mercante in fiera mi piaceva c'era come Insegno era veramente era bello il mercante in fiera era un bel programma io l'avevo anche comprato il gioco vero poi l'ho perso in vari traslotti se è gioco vero il mercante in fiera c'ha vent'anni no quello proprio della trasmissione dico quello di più io ho preso proprio quello della trasmissione non ci stava con la mia cazzata allora si è fatta sentire giustamente ma Giuliana Moreira è vero è simpatica e Vengare era una porcona ma non era simpatica anche lei ma non è vero che Vengare non è simpatica ma che fastidio ma che donna ma poi a parte che non mi piace è solo perché faccio i pompini scusa ma che cazzo di pregiudizi ma no non era simpatica ma Giuliana Moreira è simpatica e Vengare non è simpatica ma non è vero che è simpatica a parte che mi fa schifo esteticamente ma poverina ma solo perché ce l'avevo sfattato a me fa schifo e invece Giuliana Moreira è bella quindi è meglio Giuliana Moreira da vedere ma che culata cazzo e poi era anche più è l'ogico come ci ho vinto ha vinto il gatto però come abbiamo vinto tutti e due quindi è la tua è una in più cioè Giuliana Moreira è bella e te solare e Vengare ha tutta dai che brutta ma solo perché la immagine di nudo che lo prendono a dietro ma non ho mai visto una cosa forno di Vengare mai visto in dita mia una cosa forno di Vengare ma perché la immagine che parlo è un po' brutto ma senti che è schifoso però lui scusa fammi fare un TF4 per carità vabbè sono le nove giusti giusti dai seguite Gatto che fa un server che è un bel gioco e si caga addosso stasera perché non caga al sotto lui non è buono giocare al di horror che è una segna e niente ci vediamo domani mattina con probabilmente se entrò non è vero se poi domani mattina mi chiamo a mio papà non facciamo niente però eh sì perché non c'è più nessuno che streama non posso troppo siamo nelle mattinate un po' confusionari comunque amici andate in pace e che vergogna che siete tu oh brighella parlavi che scurrini volgari infatti ma l'hai detto tu però io rido perché sono un bambino che ride ma tu tu l'hai detto però scusami chiudi sta live che devo cagliarmi addosso va bene è comunque meglio Giuliana Moreira ma sì